ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi siamo in live e stiamo cercando di prendere aiato l'obiettivo di oggi è un aiato c0 quindi trovarne uno sperando di vincere il 50 e 50 anche se questo banner si è dimostrato particolarmente ostico per i miei sabini quindi staremo a vedere e anche l'arma il banner delle armi mi piace tantissimo perché comunque anche l'arco è un'arma che a me a 5 stelle manca non ne ho uno non ho lo skyward arp non ho l'amus non ho niente quindi anche se dovesse uscire per caso l'arma sbagliata continuerò a pullare perché comunque è un banner che mi piace quindi comunque io vi invito a vedere questo video divertirvi insieme a noi e scopriremo a fine video che cosa abbiamo trovato e rimanete fino alla fine del video perché alla fine vedrete le sculate della mia community perché le pull più belle saranno alla fine di questo video quindi ci vediamo alla fine del video ciao Prima multi nel banner di aiato siamo a pt2 andiamo a pt12 via 4 stelle se è yunjin facciamo una festa perché mi servono due costellazioni yunjin per il resto sono star glitter però va bene tutto nel senso vediamo vediamo appunto shanling iniziamo con la mia shanling bella dall'altro io ho il peluche di guba quindi molto probabilmente verranno chiamate santi sacrose dopo i 4 stelle in multi però non male come inizio non male visto che ho visto molte multi senza nemmeno appunto un doppio 4 stelle questa è una multi comunque che va bene perché comunque sono due pull a lungo andare star glitter su star glitter diventano tanto eh sarebbero già due pull a forza di far così ci arriviamo anche a un'altra multi adesso non me la sento di cantare tanto yunjin se mi vuole viene dai pt12 a pt22 dai dai 4 stelle vediamo ok arma arma eccola l'avevo detto se yunjin mi vuole viene eccola qua yunjin c5 quindi la prima l'abbiamo portata a casa ne manca un'altra per costellare anche yunjin definitivamente quindi bene una yunjin c'è sono già contenta sono già contentissima perché mi manca soltanto lei di questo banner da portare a c6 dei 4 stelle quindi insomma adesso manca una singola copia di yunjin una dai dai mi sa che in questa multi non c'è altro ma va bene perché mi ha dato yunjin quindi va benissimo adesso andiamo a pt32 quindi 3 2 1 via pt da 22 a 32 4 stelle vediamo se vediamo se per caso è già un'altra yunjin il prossimo dovrebbe essere il 4 stelle multi delle armi forse un sacrificial vediamo multi delle armi prima di quella guardate dal 22 al 32 è interessante eh ok ok pt32 andiamo a pt42 quindi let's go 4 stelle vediamo se per caso se per caso ci danno l'ultima yunjin eh sarebbe male non sarebbe affatto male l'ultima yunjin che dovrebbe essere tipo questa singola no shanling niente ok magari ce n'è un doppio o magari no allora questa multi delle armi prima è stata scam eh perché qua poi non ci ha dato nulla di buono non riconosco la multi delle armi la pt42 a pt52 let's go sta operatore forza andiamo dov'è 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 il mio 5 stelle dov'è il mio 5 stelle dov'è fammi vincere il 50 adesso mi fai arrivare a pt perché se no mi arrabbio no in realtà vabbè pazienza può capitare ecco un'altra multi delle armi un'altra multi delle armi potrebbe essere sintomo del mi ricordano un sacco le pulline di alessia ok ok e dobbiamo aver finito si ok un'altra multi delle armi andiamo a pt62 4 stelle ok 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 questo banner è maledetto è proprio un maledetto oh però che gioia ok non dico più che è maledetto bene ci sei Yunjin ci sei portata a casa va bene questa sono contenta questa mi dà veramente tanta 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 gioia perché era l'unico c6 che volevo fare di questo banner quindi gli altri le volevo già quindi top bene 4 stelle adesso non ci interessa niente qualsiasi cosa esce va benissimo tutto diventano entrambi pulline tutte e tre tutte e tre tutte e tre le bimbe diventano pulline e poi arriva noel è vero che prima ho trovato la favonius che adesso noel ha in mano però ora io sinceramente non l'avevo chiamata noel ci sei ovviamente però ciao noel no non era il banner giusto non sei il retap torna da dove è rivenuta grazie mille comunque salve salve noel questa sempre presente in ogni banner ma io ho scioccata ma noel ora va bene va bene alla fine sono altri star gritter andiamo a pity 72 let's go ok 4 stelle e vediamo vediamo un po' qualsiasi 4 stelle tanto va bene può essere un'arma può essere un pg qualsiasi cosa è ok ci sta sacrose ok tra l'altro ragazzi all'inizio il gioco sacrose non la trovavo mai è un pg che ci ho messo una vita a costellare l'ho costellata mi sembra tipo durante la rerun di klee quella che c'è stata a giugno tipo se era in quel banner lì non mi ricordo ma mi sembra fosse in quel banner lì facciamo la 73 e la 74 e poi vediamo come va 73 e adesso tiriamo la 74 ok possiamo tirare la multi possiamo tirare la multi e proviamo air trickettone e tiriamo la multi a pity 74 forza 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 subito ora la 75 a yato forza no ok adesso inizia il momento d'angoscia panico ansia disperazione si inizia a dondolare allora trickettone tirato 5 stelle trovato può essere qualsiasi ma io sono tranquilla oggi va bene tutto veramente raghi ok c7 c'è yungjin è veramente angoscia avendo questa animazione secondo me è la prossima no quella dopo no sì 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 vinto oh mio dio oh mio dio oh mio dio ci credo che è stato vinto questo 50 50 oh mio dio oh mio dio oh mio dio l'ho vinto oh mio dio non ci credo oh mio dio no sto giro non ci sto credendo veramente oh mio dio il mio povero cuore oh mio dio adesso avrò un mancamento probabilmente oh mio dio ho vinto il 50 erano tre banner che non vincevo un 50 e 50 mi volevo veramente mettere a piangere oh mio dio sì che meraviglia almeno non devo più pullarci in questo banneraccio siamo al soft siamo al soft tiriamo la multi per air trickettone let's go let's go qualsiasi arma va bene qualsiasi arma va bene però se la run va ancora meglio l'elegy va bene ve l'ho detto qualsiasi arma va bene l'elegy io non ho armi a 5 stelle archi quindi va benissimo tiriamo la multi dai da 59 si va a 69 o il soft è a 66 ma magari può uscire anche dopo quindi non vuol dire niente questo discorso e ragionamento che stiamo facendo quindi tiriamo la multi e vediamo un po' ok c'è il 5 stelle quindi non siamo andati oltre la 69 vediamo che cos'è non ho idea va bene tutto veramente le armi ne ho meno dei personaggi quindi anche lo skyward dark mi manca ok wixit scusate io mi scuso io mi scuso con tutti coloro che vogliono pullare il wixit ragazzi io mi scuso veramente tanto ma che è possibile che in questo banner ci scella anche la dragon's bane non se ne è vista una di wixit ne abbiamo trovati tipo 7 vabbè dai ma che perché 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 ha capito effettivamente che io faccio parte della congrega delle cantanti però no cioè basta ora basta abbiamo trovata dai 5 stelle un altro elegi ecco questa è la cosa che mi dispiace basta quanti 4 stelle in questa multi quanti 4 stelle basta quanti sono mamma mia va bene dai questa è perdiona top abbiamo anche l'elegi perdiona top ma guardate questa multi scusate andiamo vediamo se per caso in questi due multi esce per fare la cosa veloce o se no devo prendere quell'arte prime e vabbè pazienza ce la teniamo tutto per il resto per quando tornerà Casua e ovviamente un piti sulla signorina Yelan lo faremo per forza perché tocca farlo perché almeno il pg va portato a casa poi il resto se sarà in contemporanea a casa c'è anche la favonius che non era in retappe in questo banner il resto invece lo faremo ragazzi no non l'hanno detto ufficialmente non l'hanno detto ufficialmente ora inizio a mutare quelli che lo dicono perché quando vi dico uno vi dico due muto direttamente invece che che appunto favi parlare ok let's go eccolo sì non dobbiamo insistere oltre eccola qua eccola qua non ve l'aspettavate io ho tirato la multi senza dire nulla bam è andata molto bene raghi potevo farmi un altro piti potevo farmi un altro piti e invece qua nel mezzo un altro rust un altro rust e qua nel mezzo da qualche parte pa 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 un altro wins scusate veramente eccola eccola è tornata a casa faccio la foto anche a questa perché anche questa la mettiamo nelle conquiste di oggi con le conquiste di oggi oh oh sì eccola qua in tutto il suo splendore bella tra l'altro ma quanto è bella è il tricchettone let's go 5 stelle almeno non si va oltre subito 75 aiuto è paura quindi è il patto 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 andiamo 5 stelle ora è la prima voglio chiedere gli occhi di giù no no poi ok buona è la prossima no no quella dopo ma quanti 4 stelle titi 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 ok lo svengo mentre pullo basta oh mio dio 3 e 4 stelle non c'è 5 stelle è finita non è Diluc non è Diluc ma è no Diluc no Diluc here Ginevra Ginevra tra di noi e questa come la interpretiamo perché io ero pronta o a Diluc o a 20 e interpretiamo che continuiamo cioè allora noi continuiamo abbiamo altre 36 poi non so di Stagritte se li usi o meno se no abbiamo comunque 36 di pulle andiamo forza forza oh Eli ora no è svenuta perché non gli è mai successo Eli Eli aspetta Eli no un secondo un secondo un secondo un secondo un secondo calma respira Eli rimani Zen andavi fortissimo Zen una ragazza si vede che è la tattica giusta stare Zen durante il mi pull starò occhi chiusi e starò in silenzio dov'è dov'è non c'è eccolo piti notario ma che piti che piti che c'è gente strana in chat vada ha detto vada andiamo no quella dopo è l'ultima Jin Amvis voleva Jin meno male meno male Amvis voleva Jin se no abbiamo ancora qualche singola però insomma è intropiti 80 eh meno male meno male intropiti 80 almeno vediamo 71 72 73 74 75 76 77 viti 77 78 77 77 77 77 78 77 77 78 Grazie a tutti.